Sampadoria-Lecce, 02, notte fonde in casa Sampadoria, penultima battuta, 02 a Marassi, da Lecce, sette punti che si allontana dalla zona calda, più otto, gran parata in allungo di Falcone, suddestro, di Gabbiadini, tredicesimo, largo di poco, su punizione a giro di Svelaffa, al quarantesesimo, erroraccio, villa e sale, Salentini, avanti, consoccata, macina di Colombo, che si fulmina a Udero, in un tiro, guagliarella e un tentativo di rincorre nel finale, ottantatresimo, in contropiede, chiude i giochi, con banda, con perbaroni, altri tre punti d'oro, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella, notifiche e un commento, ciao!